L'Atalanta ha superato con un gol per tempo l'Empoli ed ha conquistato tre punti preziosissimi per la sua classifica. Si è giocata la 34esima giornata di Serie A. Alla fine della stagione mancano ancora quattro turni, per l'Atalanta saranno cinque, visto che deve recuperare la partita con la Fiorentina. Con l'Empoli ha centrato l'obiettivo, vittorie tre punti, ma non ci si deve dimenticare che i neroazzurri giovedì prossimo sono attesi dalla gara di andata delle semifinali di UEFA Europa League all'Orange Velodrome, dove saranno ospiti dell'Olympique Marsiglia. E probabilmente la testa era già a questo impegno. Sì, sono partite che naturalmente ti rubano un po' di attenzione, però siamo professionisti, cerchiamo sempre di risettare il cervello e di pensare. Cerchiamo di pensare alla partita del momento e sono contento di quello che comunque ha fatto la squadra. Abbiamo fatto secondo me comunque una buona partita. Ripeto, sono tre punti davvero importanti. Da domani penseremo alla partita di Marsiglia. Anche l'Olympique ha giocato. La sfida di campionato con il Lens si è chiusa con il successo dei prossimi avversari dell'Atalanta per 2-1. I ritmi sono frenetici, le partite si susseguono senza sosta, praticamente uno ogni tre giorni. Dopo l'Empoli il Marsiglia, ma Davide Zappacosta è pragmatico e non si fa travolgere un impegno per volta. Sì, sicuramente ci penseremo, però ogni tanto bisogna anche staccare la spina. Sicuramente ci sarà molto per preparare la partita e lo faremo nel migliore dei modi. Sì, sicuramente ci sarà molto per preparare la partita e lo faremo nel migliore dei modi.